Mi sento un attimo spiato Adesso andiamo a fare un giro a vedere che cosa stanno facendo È arrivato il vostro terrore Stiamo facendo la stanza, stiamo facendo post produzione Che ne pensi? Carino Ha un ottimo poster qui Vinci tipo 25 punti Tu ma non sai se consegnerò o no Sì, ce l'ho finito, però... Che faccio, lo consegno o non lo consegno? Punto, ti togli subito... Eh, devi consegnare alle 18 e 29 Per un maggiore brivido Claire, do la finestra? Eh sì Quale? È il momento di vedere le maquette Bellissimo, guarda, te la presento subito Si chiama Vigol Vigol perché è un'aquina In inglese eagle Però con la V sul petto, quindi è Vigol Super smooth questa Che cos'è? Un androide? Qualcosa di simile Una cosa di jazz Goblin scozzese acculturato, ha anche un libro Che super sta roba In teoria doveva essere un personaggio russo Aspetta In realtà è venuta a miss'ambulata Un dragolem, tipo Qui mi caga Ignora volutamente Bello Grazie Super genio con un led Gli hai fatto anche il lighting integrato No parole Ho buttato una cipa a far tutte le... Si è sentato un ferramenta adesso Guarda che belli dettagli sulla... Ma dove è luce? Punteruolo, punteruolo Ma ti stai su? Uno per uno Andiamo su Devo schifare la tua classe quindi La consegna è tra dieci minuti Ragazzi Perché dovete andare in green No Stai scherzando? Purtroppo si Un quarto d'ora? Si Perché in teoria... Ragazzi vi cambio il file di consegna Non ce la fa Non ce la si può fare a mentire Se sto ferma non mi vede Qua stiamo facendo il compositing di Star Wars 8 Per contratto non posso... Non posso rivelare dei dettagli Questa scena qua Ci sarà... Ci sarà Luke Skywalker Saluto ci vediamo tra... Un quarto d'ora circa Ciao 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 Buonissimo guarda No Cos'è quella roba? Cos'è quella roba? Toglilo subito